Nella tarda serata di ieri, nei pressi dello stadio Arechi, i tifosi di Renata hanno affisso uno struscione rivolto al presidente Danilo Iervolino. Del domani nessuna certezza, cordiali saluti da Salerno. Questo è il messaggio dei tifosi che si sono limitati a scrivere, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E da oggi sulle colonne del Corriere dello Sport, a firma di Giorgio Marota, ecco l'ideale risposta del presidente della Salernitana che ha accusato i suoi manager, in particolare De Santis, per non aver voluto ingaggiare Isco e Solè, osservando come Sabatini, da lui definito il miglior di essere d'Italia, si sia già più volte scusato per il mercato di gennaio poco proficuo ed incisivo. Iervolino ha detto di non essere un tiranno e di aver dato fiducia ai suoi collaboratori che hanno dunque disatteso il mandato. Il pensiero di Iervolino, che ha anche aggiunto che sabato sarà alla Rechi, è andato anche ai tifosi. La tifoseria è fantastica, ma esiste una sacca, anche se piccola, di odiatori, gufi e bugiardi. Ho investito 75 milioni di soldi miei e da qui a fine campionato ne metterò altri 10. Ritornare in Serie B per me non era una possibilità, eppure sta capitando. Non dobbiamo però buttare tutto all'aria. In caso di retrocessione, il patrono ha fatto sapere che punterebbe ad allestire una squadra in grado di risalire rapidamente, ma nello stesso tempo ha ricordato che tutte le aziende sono sempre trasferibili. Se il calore della piazza è ancora genuino, avrà un linfa vitale, ma non farà un progetto senza l'amore della tifoseria. Insomma, Iervolino chiede l'appoggio e la fiducia della piazza, che ha a sua volta chiesto in tutti questi mesi chiarezza sul presente e sul futuro. Poi il passaggio sullo stadio Rechi. Ad aprile decideremo per il meglio, ha detto Iervolino in merito ai lavori che dovrebbero partire al Volpe. Molto deluso dalla squadra, Iervolino ha parlato anche di Sousa, mi aveva promesso un campionato importante, poi ha cominciato a sparare a zero sulla società. Forse voleva andarsene. Intanto sabato si gioca. Liverani, scelto da Sabatini al posto di Inzaghi, che invece era stato voluto espressamente da Iervolino, proverà a cogliere la sua prima vittoria sulla panca granata, per evitare altri scossoni tecnici e per dare un senso alle successive partite. Il tecnico rilancerà Pirola in difesa e pensa a Gomise Martegani per dare più verba al centrocampo. Nessun cambio dalla tre quarti in su. Grazie.